che fa parte diciamo dell'aeroporto, quindi della città di Lugano, quindi è lì che si comincia a volare poi una volta diplomati si può passare nell'aeroclub per approfittare delle gioie del volo e noi che siamo sempre un po' collegati anche con quella che è la scaletta radio con la musica che è importantissima per Rete 1 abbiamo deciso di piazzare le donne, lo sanno, di Rigabue capito? Che donna, supremo grazie, grazie, onoratissime musica musica